Prendiamo anche quella di Mauro, N3 è il piccolo soggetto che sta lì a fianco nei loghi. Siamo il partner piemontese perché siamo un incubatore, quindi una società mista tra soggetti pubblici e privati che ha il ruolo di fare nascere imprese innovative e far sviluppo territoriale. Partiamo da una realtà e quindi da una mezza regione, quindi le province di Novara, Vercelli, Verbania e Alessandria. Guardiamo, quindi siamo coinvolti sia per una dimensione territoriale o rapporto territoriale perché siamo forse una delle regioni a maggior presenza di SIC che viene coinvolta nel progetto. Siamo coinvolti perché siamo coloro che hanno il linguaggio per dialogare e coinvolgere il sistema imprenditoriale. Questo perché siamo appunto un soggetto partecipato dal sistema imprenditoriale, siamo partecipati dalla Confindustria, siamo partecipati dalla Camera di Commercio. Abbiamo costantemente un ruolo di dialogo tra mondo della ricerca e mondo delle imprese. Quindi riusciamo ad avere questa parola mista tra linguaggio scientifico e linguaggio imprenditoriale che un po' serve anche in questo ambito perché stiamo parlando di temi intangibili che devono essere poi riportati su una tematica molto pragmatica che è la visione delle imprese. Nella visione pragmatica, nella visione delle imprese, anche qua noi ci siamo ridomandati cosa è necessario portare dentro l'impresa per riuscire a farle dialogare con questo progetto. Anche qui ci vuole una grandissima semplificazione, bisogna ridurre ulteriormente quello che è stato ridotto nel linguaggio e quindi dalle schede dei SIC che erano intellegibili dalle persone ordinarie e quindi si è portate da un linguaggio scientifico o diciamo del linguaggio più comune, poi bisogna ancora riportarlo nel linguaggio delle imprese che è ancora più scarno. Ancora più scarno almeno per alcune tematiche che sono appunto quelle del territorio, dell'ambiente e di quello che sta intorno a loro. Vi faccio vedere soltanto un micro video che è tendenzialmente la stessa cosa che abbiamo visto rappresentata da Mauro, rappresentata da Sesi e quindi la rappresentazione del progetto in una visione ancora più sintetica che è un po' il dialogo attraverso gli spot che un po' deve essere fatto con il mondo imprenditoriale. Grazie a tutti. Ecco la drammatica sintesi, no? Non dice nulla, pochissime cose molto sintetiche, alcuni elementi che ci aiutano a capire il contesto in cui siamo, ci aiutano a rendere, ad aprire un dialogo e una finestra di relazione, non entrano dentro le cose perché tendenzialmente questo è l'approccio che io ho sempre visto nel dialogo con le imprese. Cioè devi cogliere il rapporto dal niente. Se invece entri in maniera profonda poi non riesci a scavare e costruire una relazione perché tendenzialmente hanno sempre lo sguardo verso il loro bisogno e non verso il tuo bisogno. Quindi il tuo bisogno deve essere sottostimato e sottopresentato. Raccogli il loro bisogno e trasformi il loro bisogno in una relazione tra due parti. Questa è un pochino la strategia che ho sempre utilizzato e che penso che debba essere utilizzata anche in questo ambito. Cosa vogliamo vedere in questo progetto? Noi vogliamo vedere imprese. Perché le vogliamo vedere? Perché riteniamo che siano le persone che vivono in quel luogo, che fanno economia in quel luogo e quindi che in qualche maniera sono gli attori principali della valorizzazione. Siamo sempre nella contrapposizione tra conservazione e valorizzazione. I nostri siti di interesse Natura 2000 sono siti prevalentemente di conservazione e quindi a basso impatto o rapporto di fruizione. Molto spesso, anzi, sono luoghi in cui la fruizione viene limitata. Non è un luogo che diventa un attrattore principale di primo, di secondo livello da un punto di vista turistico, ma sono dei luoghi di preservazione. E quindi dobbiamo un po' capire come la comunicazione verso le imprese, come riuscire a vendere nella comunicazione verso le imprese qualcosa da difendere più che qualcosa da valorizzare. Vogliamo vedere 300 imprese, le vogliamo vedere in alcuni ambiti molto chiari e molto coerenti con il nostro viaggio. Sicuramente la prima filiera di rapporto è la filiera del turismo, perché il viaggio vuol dire accoglienza, vuol dire mangiare. Quindi vogliamo anche sapere chi sono quei soggetti che possono stare intorno al nostro percorso, che abbiano rapporti in quel segmento. Sicuramente la filiera della bici, perché dovremo capire se nelle nostre regioni c'è ancora una produzione intorno al mondo della bicicletta, che quindi parte dal telaio, arrivi fino all'ultimo elemento, fino all'abbigliamento, a tutti quanti gli elementi che diventano corredo del ciclista. L'altro tema è un po' un tema che piace a noi come N3 e come incubatore, il tema dell'innovazione. Quindi andare a capire ancora in quelle sette regioni quali sono le start-up innovative che effettivamente vivono e che possono avere una funzione interessante nel rapporto tra impresa nuova che nasce ancora in ambiti di servizi turistici, culturali, valorizzazione del territorio, ma anche le lavorazioni sostenibili, che possono essere interessate ad una comunicazione congiunta tra un processo di immersione di realtà territoriali e realtà ambientali con un processo di immersione di nuova imprenditorialità. Un altro tema sicuramente fondamentale è il tema dell'alimentazione e del food, perché sono quelli più prossimi ai temi territoriali e quindi la correlazione tra food, biodiversità e marketing turistico e marketing territoriale c'è una grossa affinità. E l'ultimo punto, l'ultima impresa che vogliamo vedere, che secondo me quelle che ci possono dare maggiore soddisfazione sono l'industria di grande e media dimensione che attraverso ricerca più o meno riconosciuta hanno ridotto il loro impatto nei confronti del territorio e quindi io voglio vedere quelle che noi consideriamo le imprese cattive, voglio vedere la grande chimica, voglio vedere i soggetti che hanno un pesante impatto sul territorio ma che volenti o nolenti stanno trasformando i loro processi per ridurre la loro ingerenza territoriale. Cosa andiamo a chiedere loro? Andiamo a chiedere loro tutti quegli elementi con i quali si possono riconoscere col progetto e possono essere ingaggiati, quindi possono trasformarsi da soggetti passivi in soggetti attivi perché è quello che penso che sia uno dei primi o dei principali obiettivi di questo progetto. generare un rapporto passivo con il territorio e con la propria rete Natura 2000 in un rapporto attivo e quindi noi gli andiamo a chiedere qual è il rapporto tra la loro attività e il loro ambiente e quindi capire effettivamente se utilizzano gli elementi naturali intorno a loro per le loro lavorazioni, per le loro trasformazioni e per la loro comunicazione. gli andiamo a chiedere ancora se quegli elementi fanno parte degli loro strumenti di comunicazione e quindi se flora e fauna del luogo, se la montagna, il lago, il fiume o altro sono elementi del loro logo della loro comunicazione istituzionale, della loro rappresentazione e quindi anche della rappresentazione del loro prodotto. perché vuol dire se tu hai utilizzato quegli elementi per rappresentare il tuo prodotto devi essere propenso o attivo nel cercare di conservarli, mantenerli e valorizzarli. Ed è proprio il terzo gruppo di domande che li porta all'engagement quindi al cosa loro hanno fatto o cosa loro possono fare o come si possono impegnare per adottare gli elementi del territorio e quindi come possiamo stimolarli o farli o renderli attivi per fare in modo che il rapporto tra imprese e territorio passi attraverso questo progetto e si trasformi da un'azione passiva o da un'azione di utilizzo, da un'azione attiva e quindi anche di coinvolgimento. Io sono stato più che rapido degli altri e vi saluto. Grazie.